Dopo una battaglia durata 10 anni, Faregruppo è servito ancora una volta per ottenere un meritato riconoscimento. La Commissione Vitivinicola del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali infatti ha votato l'ok alla DOC Tavoliere per la tutela del vitigno Nero di Troia. Esattamente un anno fa Conf Cooperative e Coldiretti di Foggia avevano inoltrato la richiesta per ottenere la denominazione di origine controllata al Comitato Vitivinicolo Regionale, che aveva espresso parere negativo perché in Puglia erano già presenti la DOC Castel del Monte con la specificazione Nero di Troia e quella di Sansevero con la tipologia Uva di Troia. Con l'accordo in via Capruzzi dello scorso gennaio invece nacque ufficialmente la DOC Tavoliere con la tipologia Nero di Troia che vede raggruppati l'areale della provincia di Foggia e parte della provincia di Bat. Il Nero di Troia si chiama così perché la sua elevata carica di polifenoli conferisce un colore rubino intenso che a volte può sembrare nero. La leggenda narra che Diomede, sbarcato sulle rive del Gargano, portò tralci di vite che Federico II amava degustare. Poi i marchesi d'Avalos, signori di Troia, incrementarono notevolmente le coltivazioni di quest'uva. Il Nero di Troia è stato per lungo tempo un vitigno relegato ad un ruolo secondario, quello di rafforzare con i suoi notevoli corpo e colore i vini più deboli. Adesso però ha una DOC tutta sua.